Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, ancora una tragedia sul lavoro al confine tra le province di Arezzo e Perugia in zona Ferretto. Un'altra tragedia sul lavoro è morto un uomo di 55 anni e è accaduto proprio al confine tra l'Umbria e la Toscana. Una tragedia sul lavoro avvenuta al confine tra le province di Arezzo e Perugia. Siamo nelle campagne della frazione di Ferretto, comune di Castiglione del Lago a pochi metri dal confine con il comune di Cortona. Secondo quanto si apprende, il 55enne stava lavorando, pare come conto terzista, nei terreni che fanno capo ad un impianto di biogas da biomasse. Tutto sarebbe avvenuto mentre gli operai stavano scaricando concime sul terreno e durante questa operazione si è verificato l'incidente. L'uomo, residente a Terni, stava completando lo scarico da un tir di una serie di grossi sacchi di concime dal peso di circa un paio di tonnellate l'uno, assieme ad un collega che operava manovrando il muletto. Proprio prima di movimentare l'ultimo sacco rimasto è avvenuto l'incidente. In una manovra di retromarcia il 55enne è stato travolto dal muletto e ha perso la vita sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Cortona, gli operatori dell'emergenza urgenza dell'ASL di Perugia e un'ambulanza della misericordia di Cortona dall'Aretino. Saranno i carabinieri di Città della Pieve a ricostruire quanto esattamente è accaduto. Un arresto per droga in Valdarno, un uomo scoperto con oltre 140 grammi di cocaina grazie al fiuto dei cani antidroga. E' stato scoperto, grazie al fiuto dei cani antidroga, con oltre 140 grammi di cocaina ed è stato così arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire manette un cittadino straniero è successo in Valdarno nell'ambito di una serie di controlli portati avanti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo. Nei giorni scorsi le fiamme gialle della compagnia di San Giovanni Valdarno, assieme alle unità cinofile di Firenze, hanno infatti deciso di controllare un uomo segnalato con insistenza dai cani. Una circostanza ritenuta dai militari indicativa della possibile presenza di tracce di stupefacenti sulla persona che avevano di fronte sulla sua automobile. I finanzieri poi nel corso dell'identificazione hanno notato un atteggiamento nervoso, da qui la perquisizione nell'abitazione nel comune di San Giovanni Valdarno, dove le fiamme gialle hanno trovato 144 grammi di cocaina suddivise in panetti e quasi 2.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Dalla perquisizione sono saltati fuori anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso torniamo a parlare del caso di Davide Pecorelli, imprenditore ed ex arbitro della sessione AIA di Arezzo, che si era finto morto. Adesso è stato condannato a quattro anni di reclusione. Nel gennaio 2021 simulò la propria morte in Albania a Puc per poi ricomparire, nove mesi dopo, sull'isola di Monte Cristo. Ai carabinieri, quando fu ripescato in mare, disse che era alla ricerca del leggendario tesoro. Adesso Davide Pecorelli, ex arbitro della sezione AIA di Arezzo ed imprenditore del settore beauty con attività commerciali anche nell'aretino, è stato condannato in Albania a quattro anni di reclusione. Pecorelli è stato riconosciuto colpevole di incendio doloso, quello dell'autonoleggio in cui aveva nascosto ossa umane per far credere di essere morto, poi per violazione di confine, quello con l'Albania, ed infine per rossacolo alla verità, ovvero per la simulazione di reato. È stato invece assolto per vilipegno di cadavere e truffa. La procura di Puche aveva chiesto otto anni di reclusione. Alla base della complicata vicenda ci sarebbe una storia di debiti e conti non saldati. Per i reati di cui era accusato in Albania era stato sottoposto ad arresto provvisorio in Italia. L'Albania ha già chiesto la sua estradizione, ma la Corte d'Appello di Perugia ha rinviato alla fine di maggio l'udienza della quale verrà trattato il caso. A Marciano della Chiana, invece, dove due settimane fa erano state travolte sulle strisce pedonali due ragazzini, erano stati installati degli autovelox che sono stati subito imbrattati. Erano stati installati nemmeno una settimana fa, dopo il grave incidente che aveva visto coinvolte due ragazzine di 12 anni travolte sulle strisce pedonali all'uscita dalla scuola a Marciano della Chiana. Ma adesso i Velocity Box sono già finiti nel mirino dei vandali che li hanno imbrattati con della vernice rossa. È successo nella frazione di Cesa. A condannare il gesto tramite social il consigliere comunale di Marciano della Chiana, Nicola Gentile. È una settimana che mi sto battendo per la sicurezza delle nostre strade e di certo non è questo il ringraziamento che speravo ha scritto sulla sua pagina Facebook. Possono piacere o non piacere, ma sicuramente, conclude, contribuiscono a diminuire i pericoli. Sono in tutto sei autovelox installati nel territorio comunale di Marciano della Chiana dopo l'investimento, alcuni di questi proprio lungo la provinciale 25 nel tratto che prende il nome di via di Castiglioni e che collega Cesa a Lucignano, una strada molto frequentata ed altrettanto pericolosa, come avevano denunciato i residenti dopo il grave incidente. Le macchine viaggiano a tutta Randa, questo è pericoloso. In Val Tiberina, a Gricignano, un'iniziativa per parlare del futuro della frazione sarà presente anche il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. L'appuntamento è alle 21 di domani alla Casa del Popolo. Cittadini esperti di istituzioni discuteranno dei progetti che nei prossimi anni potrebbero riguardare la frazione, in particolare quello relativo alla possibile realizzazione di un impianto di lavorazione di conglomerati bituminosi. E adesso parliamo di un'altra protesta, quella dei residenti di via Sicilia, dove la scorsa settimana è iniziato il montaggio dei cinque piloni che compongono la nuova antenna. I cittadini si sono già costituiti in un comitato e raccolto 1.800 firme per dire no alla torre a pochi metri dalle abitazioni. E venerdì prossimo arriverà sul posto anche l'onorevole Laura Boldrini. Laura Boldrini, che sempre venerdì sarà presente anche alla Flash Mob, che avrà come tema cessato il fuoco a Gaza per proteggere la popolazione civile, e vedere finalmente liberi gli ostaggi. L'appuntamento è dalle 17 alle 19 in piazza San Michele ad Arezzo. E adesso voltiamo pagina alla Casa dell'Energia di Arezzo, il primo incontro del percorso partecipativo volto alla creazione di un piano d'azione necessario per l'adempimento degli impegni del Green City Accord. Arezzo, più verde, più pulita e più sana. È con questi obiettivi che ha preso avvio il percorso partecipativo volto alla creazione del piano d'azione necessario per adempiere agli impegni della Green City Accord, al quale il Comune di Arezzo si è recentemente associato. Il percorso è partito con un incontro pubblico alla Casa dell'Energia, nel corso del quale sono stati approfonditi i temi chiave delle cinque aree individuate dall'accordo, tra cui la qualità dell'aria e del rumore, l'ecosistema acquatico e la biodiversità, nonché l'economia circolare e la gestione dei rifiuti. Ringrazio personalmente l'amministrazione comunale che ha scelto Urban Center e Casa dell'Energia come luogo deputato agli incontri del Green Me 5, che è un'importante tranche del bando Life, Environment and Climate Change, che permette di migliorare la qualità della vita all'interno delle nostre città. Sappiamo che nell'Unione Europea circa il 70% della popolazione vive all'interno di grandi città, quindi ovviamente migliorare la qualità della vita, la qualità dell'aria e ovviamente anche la condizione psicofisica degli abitanti permette ovviamente di migliorare tutta la qualità della vita a tutto tondo. Questo è il primo incontro, ovviamente partiranno dei tavoli di lavoro che si snoderanno fino alla fine di giugno e che ovviamente verranno coinvolte tutte le partecipate pubbliche e tutti i soggetti che erogano servizi ai cittadini. Un incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola per condividere nuove opportunità professionali. Il progetto è condotto dalla tesi di Subbiano, laboratorio di riferimento a livello nazionale in tarature e misurazioni e proporrà una serie di lezioni in istituti tecnici della provincia in cui i maturanni vivranno l'esperienza di un'opportunità per scoprire diversi aspetti teorici e pratici della scienza della metrologia. Il primo appuntamento è sabato 6 aprile nell'Aula Magna dell'ITIS Galileo Galilei mentre venerdì 19 aprile con l'ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno. Sabato 6 aprile invece inizieranno anche ad Arezzo le iniziative del Mese Blu sull'autismo. Prenderà il via sabato 6 aprile alle 9.30 all'auditorium dell'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo il programma del Mese Blu dell'autismo. Il primo appuntamento è dedicato alla comunicazione aumentativa ed alternativa, un insieme di strategie, conoscenze e tecniche che hanno come obiettivo il potenziamento del linguaggio verbale e che possono essere utili per rendere la didattica più inclusiva. Tante poi le iniziative in calendario per l'intero mese che hanno come obiettivo quello di diffondere sensibilità ed informazione sulla vita delle persone con diversa abilità intellettiva. Tra questi, domenica 21 aprile al Teatro Petrarca l'evento per la consapevolezza sull'autismo con la partecipazione di Paola Turci. Nel Mese Blu però si accendono anche i riflettori sulle problematiche denunciate dalle famiglie, una su tutte quella relativa alle terapie ABBA, terapie comportamentali nell'occhio del ciclone perché l'erogazione alle famiglie dei contributi per pagarle, ora sospesa, potrebbe essere interrotta per sempre. Sono dei trattamenti che aiutano nella gestione del comportamento perché spesso le difficoltà delle persone autistiche sono comportamentali e comunicative. Ora è importante che ogni famiglia abbia la possibilità di usufruirne. Sono trattamenti molto costosi e purtroppo non vengono più finanziati. Ecco, quello che vorrei richiedere è che si prenda in carico questa necessità e che lo si faccia per tutti. Quindi i rimborsi dei trattamenti ABBA sono fondamentali. ABBA o altri trattamenti certificati dalle linee guida. Anche la provincia di Arezzo partecipa alle giornate nazionali delle case di personaggi illustri aperte promosse in tutta Italia questo fine settimana dall'Associazione Nazionale Casa della Memoria quest'anno dedicato al tema Memorie in Viaggio. Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro paese. Ad Arezzo per l'occasione aprirà la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi e in provincia il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo e Casa Venturino Venturini di Loro Ciuffenna. E sempre questa domenica porta aperte anche al Museo di Porta Santa Andrea che poi lo ripeterà tutte le domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo. Un'iniziativa importante che punta a far conoscere un grande tesoro a retino come quello della giostra della Zaracino e della storia del quartiere sfruttando un periodo favorevole per quanto riguarda i numeri delle presenze turistiche in città. E sicuramente richiamerà molti turisti in città anche l'omaggio che Arezzo è pronta a rendere a Giorgio Vasari con itinerari e mostre per celebrare i 450 anni dalla morte. Questa era la sua città natale, lui ha molto lavorato e molto vissuto a Firenze era amico personale di Cosimo ma in realtà lui si sentiva sempre a retino la sua casa, quella che lui ha fatto per sé, la casa dove tutti vorremmo abitare da quanto è bella è Arezzo. È un legame di sangue quello di Giorgio Vasari ma che si intreccia anche all'impronta artistica con cui lasciò un ricordo indelebile sulla città. Si intitola Arezzo, la città di Vasari è il percorso di itinerari ed esposizioni articolato in dieci mostre tra opere monumentali e documenti rari valorizzati in nuovi allestimenti per comporre il quadro della vita e dell'attività di Vasari nella sua città di origine in occasione dei 450 anni dalla morte. Consentirà dall'archeologia ai tempi di Vasari di comprendere la grande personalità di questo artista imprenditore straordinario che era collegato a Cosimo I, era collegato a Michelangelo e quindi creava un tessuto di conoscenze che lui, come dire, riassumerà nel suo capolavoro che sono le vite degli artisti. Il progetto da maggio 2024 a febbraio 2025 connetterà musei, biblioteche ed archivieri tini per celebrare il pittore, architetto e storico dell'arte divenuto emblema del genio poliedrico tardo rinascimentale. Darà dei percorsi che serviranno anche agli stessi aretini per ritrovare le radici profonde del Vasari con Arezzo, i documenti di nascita, le sue vicende e chiaramente poi i capolavori che ha disseminato in città e nei nostri programmi c'è anche la volontà di riaprire il piccolo corridoio vasariano. Una figura che è vera e vissuta insieme ai grandi ma anche ha fatto la storia e noi dobbiamo continuare a proteggere. Quindi questa per Arezzo è un'occasione secondo me sensazionale che porterà certamente un buon turismo. Fulcro dell'iniziativa, una mostra cura di Cristina Cidini con la collaborazione di Alessandra Baroni che vedrà arrivare o tornare in città opere da collezioni internazionali. La direzione regionale di musei collabora in maniera molto importante a questo evento avendo tre musei inclusi tra le iniziative del Museo di Casa Vasari, il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna e anche il Museo archeologico. E devo dire che siamo impegnati anche con prestiti alla mostra principale e chiaramente non posso non ricordare la chimera che è già stato concesso il prestito a questa mostra nella considerazione che appunto fu trovata qui ad Arezzo all'epoca di Cosimo I del Vasari nel 1553 e che Vasari subito la descrisse e la segnalò diciamo al Duca. Il Museo Oro d'Autore infine omaggerà Vasari a gennaio invitando artisti e orafi e designer a progettare un gioiello o un ornamento pensando al grande artista. E vedremo quindi delle opere penso anche straordinarie dai primi progetti che ci hanno sottoposto. Con il patrocinio della Comune di Arezzo della Fondazione Arezzo Comunità e della Provincia la Fondazione Tevenin organizza l'incontro Formare ed Informare anche attraverso i libri. Una mattinata dedicata all'approfondimento su tematiche educative importanti per bambini e adolescenti. Se ne discuterà assieme a Elisa Marcheselli e Sofia Venturini del Greco. L'appuntamento è per sabato alle 10.30 nella sede di Casa Teveni. E dopo aver percorso l'Arno nel tratto casentinese la ricognizione dell'area di Ponte Buriano invece sabato 6 aprile i canottieri comunali di Firenze arrivano in Baldarno. Sportivi appassionati percoleranno i 10 chilometri che separano la diga di Levane del Ponte Pertini nel comune di San Giovanni. La navigazione completa del corso rientra nel calendario delle celebrazioni per festeggiare i 90 anni di vita della società sportiva. Tra gli obiettivi anche quello di restituire una fotografia del fiume scattata direttamente dall'acqua per mettere così a fuoco dettagli difficili da individuare via terra. In Valdichiana invece domenica 14 aprile torna il radunno La Chianina in Vespa che con partenza da Marciano permetterà agli appassionati di questo iconico mezzo di trasporto di vivere una giornata all'insegna dell'aggregazione per la condivisione e della scoperta di bellezze e sapori del territorio. Un evento organizzato dalla Chianina SD e quest'anno motivato dalla volontà di ricordare Carlo Sandroni. L'USD Capolona Acquarata invece si è aggiudicata il bando per la gestione dell'impianto sportivo di Pratantico un investimento di oltre 172 mila euro per la gestione dei prossimi 25 anni. È stata infatti approvata con un'apposita delibera di giunta l'assegnazione. Il bando prevede l'assegnazione di tutto l'impianto. E dopo la squadra di Calcio 5 composta da soli preti e quella dei sindaci adesso arriva anche l'amichevole di lusso come si dice in gergo calcistico. Giovedì 9 maggio la rappresentativa polisportiva dei parroci e religiosi della diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro scenderà in campo assieme a quella dei primi cittadini. Il calcio d'inizio è alle 15.30 al campo al centro sportivo di Cozzano a Castiglion Fiorentino e il calcio d'inizio appunto verrà dato dallo stesso vescovo Monsignor Andrea Migliavacca. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.